Luigi Caldarola, i tesori di torre tra storie e bellezze senza tempo, un convegno venerdì all'hotel Holidays, qual è l'obiettivo? L'obiettivo è parlare di città, di mettere la città al centro e trattare un tema importante che è quello del turismo molto spesso dimenticato, tant'è vero che il titolo non a caso parla di tesori, tesori che questa città offre e che purtroppo molto spesso sono nascosti, quindi l'obiettivo di questo gruppo civico è di iniziare a ragionare di un percorso che possa portare Torre del Greco ad essere valorizzata anche al di là delle solite passerelle degli spot che continuano ad essere presenti adesso. Quindi da chi è promosso il convegno? È promosso da un insieme di realtà civiche che si propongono come obiettivo di confrontarsi con la città, di confrontarsi in questo caso con gli addetti a lavori del settore e provare a trovare insieme delle soluzioni che possano fare al caso di Torre del Greco. Gruppi civici che guardano anche alle prossime elezioni? In questo momento l'obiettivo è provare a costruire un gruppo, un gruppo di persone, di cittadini, di cittadine, di professionisti, di giovani, di tutti coloro che vogliono impegnarsi per dare veramente un rilancio alla città di Torre del Greco e costruire un percorso che possa avvicinarsi alle elezioni del 2023. Si parla di turismo? C'è tanto ancora da fare? Da che cosa ripartire? Sicuramente ripartire appunto dai tesori di questa città come Villa delle Ginestre, il Parco Nazionale del Vesuvio che spesso è dimenticato dai tanti o dal litorale. Non a caso abbiamo scelto l'Olidis perché il litorale di Torre del Greco per quanto ci siano state varie iniziative è ancora purtroppo sottovalutato e bistrattato. Grazie a tutti.